Siamo qui con il patron del team Cupri, a cui chiediamo il suo apporto al match di venerdì, quello che affronterà Luigi Merico. Certo, Luigi Merico dopo tanti problemi che è stato rinviato il torneo, questo grosso campionato internazionale, abbiamo avuto questi problemi, comunque deve combattere e allora siamo riusciti a farlo combattere fuori da questo torneo internazionale e nello stesso tempo farà col pugile che ha già fatto con una grossa esperienza genovese, prima del match professionista ci sarà un torneo PP Cup, un torneo regionale dove ci sono pugili di esperienza, sculbossi, young e youth che nell'anno precedente hanno già combattuto, ci sono ragazzi con molta esperienza, alcuni che hanno già il titolo nazionale, si pensa proprio a una bellissima manifestazione pugilistica come sempre, dobbiamo collaborare affinché questo pugilato va sempre più avanti. In modo che si avvicini sempre più pubblico, naturalmente. Beh, il pubblico c'è, c'è sempre, le palestre sono piene, è solo che ci vogliono grosse eventi per poter farlo, tanto è vero quando si fa l'estate e si fanno in queste belle piazze come la piazza di Bursano, la gente c'è e vuole vedere il pugilato, ci vuole sempre il campione del posto, in questo caso è Merico Luigi. Grazie.